per cortesia Chiara Lucchese, Chiara Lucchese attesa in zona premiazioni 50 Arana, prossima serie alla sesta, alla partenza Kellin Rosa alla 1, Eric Kalenila alla 2, Trey Bentrebach alla 3, Giulio Palazzola alla 4, Tommaso Marchese alla 5, Cesare Busatta alla 6, Marco Biassuto alla 7, Ewan Mut alla 8 e alla partenza femminile